Coop ha deciso di investire in questo importantissimo progetto che è lo sviluppo del Future Food District e del supermercato del futuro che è un'area tematica di Expo. L'idea fondamentale che sta alla base di questo concept è che è la tecnologia deve essere utilizzata per far ritornare i supermercati ad essere un ruolo in cui la socialità può trovare una sua espressione. In pratica a me piace dire che non siamo nel supermercato del futuro ma che siamo nel mercato del futuro perché grazie alla tecnologia, come potete vedere girando all'interno di questo spazio, grazie alla tecnologia siamo riusciti ad abbassare l'altezza degli scaffali e riaprire alla vista delle persone tutto lo spazio e tutto il volume del negozio. Il tema di Expo è Feed the Planet, Energy for Life, ovvero sia il prodotto, l'alimentazione è il cardine su cui poggia tutta questa esposizione universale. Quindi non volevamo fare un uso di una tecnologia fredda a fine a se stessa, volevamo fare in modo che la tecnologia aiutasse i prodotti a raccontare la loro storia. E da qui sono nate le due esperienze principali che sono all'interno del nostro sito espositivo, le due visitor experience che la fanno da padrone che sono i tavoli interattivi e gli scaffali interattivi. Nei tavoli interattivi abbiamo utilizzato una tecnologia che è tipica del mondo dei gaming, che è quella dei sensori di movimento, grazie alla quale quando un visitatore si avvicina viene riconosciuto, viene ingaggiato dal tavolo stesso e con un normale gesto della mano attiva una serie di informazioni che gli vengono visualizzate su uno schermo che si trova posizionato immediatamente sopra al tavolo. test